Il terzo turno è l'occasione per un esercizio di tiro a segno. Ne rimane vittima il Buavista. Trova la conclusione, c'è il terzo gol da parte di Gantz. Il Buavista attento e in qualche maniera deve farsi vivo ora il portiere Alfredo. Rischia moltissimo e vedete il disimpegno troppo rallentato da parte dei portoghesi con Gantz che va alla conclusione. E poi il quarto gol realizzato ancora da Sforza caparbiamente l'Inter è andato al disturbo degli avversari e al tredicesimo ancora Ciriaco Sforza mette dentro il pallone del 4 a 0. Inter, Zamorano eccellente la sua partita. E poi la palla per Zanetti da Sforza in mezzo, gol! Sono 5, Gantz, grande azione dell'Inter. E poi la palla per Zanetti da Sforza in mezzo, gol! E poi la palla per Zanetti da Sforza in mezzo, gol! E poi la palla per Zanetti da Sforza in mezzo, gol!